Dopo un pareggio e due vittorie consecutive, la serie positiva dell'Alto Adige si ferma contro l'Alessandria, che mostra di meritare il nuovo primato in classifica. La gara è comunque equilibrata, anche per numero di occasioni. Al 42esimo, sugli sviluppi di un corner, Damonte di testa sfiora il gol per l'Alessandria. Rispondono subito i padroni di casa, con una bella iniziativa di Fischinall sulla fascia, il suo cross per la testa di Alfredo Romano, che a portiere battuto colpisce un palo clamoroso. Passiamo la ripresa, nell'Alto Adige Martini si sgancia in attacco e va al tiro, alto di poco. Al 62esimo, il vantaggio degli ospiti, il suo cross di Negrini. La difesa non disimpegna e Camillucci scocca un tiro improvviso dal limite, che si oppia sul calcio d'angolo, la palla taglia tutta la difesa, e Damonte dà un passo, sfiora col corpo e manda in rete. Sebastiani cambia Fischinaller con Virdes, è burato con Mariano Romano, manda a campo a fare il trequartista, e l'Alto Adige, con una reazione d'orgoglio, dimezza lo svantaggio all'81esimo, iniziativa di Martin che serve in area Mattia Marchi. Bello è piatto al volo del centravanti Biancorosso, ma non basta per evitare la terza sconfitta all'Alto Adige. Rimpiangiamo questa partita perché potevamo andare in vantaggio nel primo tempo, e ancora una volta, magari essendo in vantaggio, potevamo portare a casa la partita o almeno un punto. Poi nel finale, sotto le due gocce abbiamo provato, e non si è riuscita a parezzare. Grazie. 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 Grazie.